Credo che quest'inizio di apropos fosse un ingraggiamento per i tempi, poi molto molto in fretta e mi semplifica questa battuta nel comunicarvi la mia intenzione che la relazione rispetto al ruolo guida della qualità del sistema verrà poi turnita al centro studio e ho già parlato con Angelo Pires da questo punto di vista e sono stimolato per fare quattro considerazioni sugli aspetti che erano contenuti nella relazione ma che poi sono importanti in una realtà come la nostra e per un'amministrazione come quella provinciale che è come caratteristica di ente di coordinamento. Intanto c'è un problema sulla qualità, il problema di accezione è un problema di percezione. Io mi trovo a vivere una realtà amministrativa con una struttura organizzativa che fa già della qualità, quasi misurabile in termini di 19.000 se trasportiamo però queste accezioni nella pubblica amministrazione. Qualità che deriva da un'organizzazione moderna non più burocratizzata in punto di valutazione, etc., con una verifica puntuale che è una ricchezza dell'organizzazione stessa dell'amministrazione. Quanto viene percepito questo è il problema, perché poi tutto il discorso sulla qualità io lo chiuderei e lo focalizzerei come pubblica l'amministrazione ha un concetto di customer satisfaction, cioè la soddisfazione del cliente, in questo caso del produttore. Quanto quegli aspetti qualitativi di qualità che forniamo con i servizi vengono percepiti e quanti sono efficaci, altro problema. Noi ce ne auguriamo anche dell'organizzazione, diventiamo a volte chi fa organizzazione e chi poi fa anche amministrazione autoreferenziale, nel senso che sprecchiamo tanto del nostro tempo, utilizziamo tanto del nostro tempo nel progettare e realizzare un'organizzazione che è un'organizzazione sempre complessa, perfetta. Il problema è quanto noi possiamo rendere intelligibili e efficaci le scelte derivanti da questo aspetto organizzativo. Io infatti avevo una provocazione da fare al convegno, qui dice miglioramento continuo della qualità nella pubblica amministrazione. Io, se mi permette, riscriverei miglioramento continuo della qualità del sistema attraverso la pubblica amministrazione, quindi andiamo nell'efficacia. La pubblica amministrazione che ruolo ha in un sistema territoriale come questo della provincia di Nuoro, che è un sistema che a me hanno sempre insegnato in pianificazione territoriale, da considerare come un amplificatore cibernetico, cioè nel senso che a una determinata azione corrisponde una serie di reazioni o di azioni a catena che sono in parte prevedibili. Noi abbiamo una sorta di mission, si dice così in termini moderni, che è quello di fare esempio, dare esempio affinché poi accascate. In questo caso io parlo come ente di coordinamento, le amministrazioni locali, ma in generale il sistema acquisisca posizioni di livello, come diceva lei, per quanto riguarda la qualità. E rendere queste azioni, non solo queste sensazioni, qualcosa di acquisito. Per fare che cosa? Per rendere il nostro sistema, in questo caso il nostro territorio, attraente. Io ho fatto una campagna elettorale, sono elettore la primavera scorsa, con uno slogan. E dicevo, all'apertura di tutti i miei comizi, comunicazioni, il santino e quant'altro, noi abbiamo diritto a una vita di qualità. Dicevo vita di qualità perché, poi sottendevo questo slogan al ragionamento, non si può soltanto parlare in una realtà come la nostra, soltanto di soddisfazione dei bisogni primari, soltanto di lavoro, soltanto di salute in termini quantitativi, soltanto di istruzione e non chiusura dei presidi minimi, ma dobbiamo fare un salto di livello. Dobbiamo pensare che tutti quanti noi possiamo avere, abbiamo detto possiamo avere, dei servizi, degli standard qualitativamente elevati. E attraverso questo innalzamento degli standard, del livello dello standard di qualità, essere attrattivi per l'insediamento in questo territorio. Come ci muoviamo? È interessante adesso fare uno step per vedere a che punto siamo con la porzione di questo programma, per meglio dire, del metodo attorno al quale si concretizza l'azione amministrativa. Intanto c'è, io vado subito a fare dei capitoli, a citare dei capitoli perché non mi è dato, insomma, per la relazione. Intanto c'è una gravissima occasione. L'occasione è derivante da quello che la regione, o per meglio dire, la comunità europea con declinazione nazionale regionale sta riservando alle amministrazioni provinciali e al territorio nella progettazione del futuro. Avete sentito parlare di programmazione negoziata che è un metodo di progettare il futuro che parte dal basso. Fino adesso abbiamo comunque delle puntualità. Ognuno si è fatto un patto territoriale, qualcuno si è fatto una 488 nella legge di incertivazione. Sul versante infrastrutturale ci sono stati degli interventi a livello di viabilità, a livello di contenitori fisici, a livello di assetto del territorio. Quello che manca e quello che poi è derivante, insomma, da questa azione è il quadro generale, l'organizzazione, il PIT, famosa sigla della quale pochi conoscono il significato, non per volumizzare con Meloni, ma i complementi di programmazione, leggiamo in tanti. È vero che i complementi di programmazione, arma importante, arma della regione per lo sviluppo del territorio, a mio parere lo dichiaro pubblicamente, non sono conosciuti da più di 300 o 350 persone in Sardegna e questa è la traccia che segnerà sicuramente per i prossimi 10-15 anni l'avvenire della Sardegna, cosa pericolosa in democrazia. Gli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori, grazie. Questo è un deficit di democrazia. Pericolio. Un deficit di democrazia. Perché ve lo truppite e cerco proprio di non... di chiudere. Perché attraverso questo un'amministrazione come la nostra può obbligare, è un termine brutto questo, però in questi casi significa spostare il paletto, il limite più in là. Amministrazioni comunali, attori sociali e economici dello sviluppo a organizzare quanto hanno a disposizione in termini di qualità. Cos'è in termini di qualità? Faccio un altro esempio sulle infrastrutture, sulle opere pubbliche, molto minimo. Noi siamo un ente che facciamo strade. Le strade si realizzano come le conoscete voi. C'è un sistema minimo di qualità, cioè l'accezione sulla qualità della realizzazione di matura pubblica che è la corrispondenza al capitolato speciale da fare. Ci sono delle prove fisico-tecniche di qualità del materiale, di rispondenza al progetto, per cui una strada, se rispetto a queste caratteristiche, se la qualità dei materiali è questa, va bene. L'altro giorno sono andato a Uiena, a un convegno organizzato dai ciclisti, dall'associazione dei ciclisti, e hanno letto queste associazioni. Poi siamo una delle ultime nazioni europee, regione, Sardin, una delle ultime regioni italiane, che non applica quella delettiva, o per meglio dire, quel elemento in più di qualità che sono le fiste ciclabili. Quindi, è possibile che in condivisione dei centri urbani ci siano le fiste ciclabili vicino alle strade? Quanto importa in più il termine di spesa? Se lo dico ai miei ingegneri, degli uffici dicono, no, ma non ne lo facciamo perché dobbiamo realizzare tanto. Ma se lo obbligassero tutti a fare le fiste ciclabili vicino alle comunità, sarebbe un rinanziamento di qualità? Secondo esempio è molto veloce. Vicino alle strade ci sono le opere di contenimento, che sono i muri in cemento armato. Voi avete visto quanto questa civiltà del 2000, quanto sia reperita in termini di percezione dell'opera pubblica? Se leggiamo il 20 regolamento dei lavori pubblici, nel 1865, superato adesso, diceva che un'opera pubblica deve dare decoro alle città. Dallo decoro a quei muri in cemento armato, che anch'io come ingegnere progetto, c'è un'opera pubblica che speriamo vada in porto, sperimentata, da parte dell'amministrazione provinciale, nella quale i muri in cemento armato, per una precisa volontà dell'amministrazione provinciale, verranno conformati con una cassaforma per realizzare un basso rilievo. Adesso, parola bruttissima che ci crediamo, un mesopotamio, egiziano. No, abbiamo soltanto avvento e imposto al progettista che poi, oltre la spendita del necessario, risparmiando perché anche nelle opere pubbliche si spreca tanto, ci potesse essere una percezione di quell'opera pubblica viva. Potesse quell'opera pubblica che un brutto muro in cemento armato, che grazie veramente ai muralisti qualche volta coprono questi aspetti, si potesse avere una percezione dell'ambiente di innalzamento della qualità della vita diversa e potesse sentire i frutturi facenti parte di questo insieme di vita di qualità. Chiudo con un ultimo esempio perché sto facendo solamente capitoli. E porto esempi. L'altro giorno abbiamo deliberato l'avanzo di amministrazione della politica e del bilancio della provincia. di Nuoro. Sapete che c'è una polemica sugli studenti. Gli studenti di Nuoro, la provincia di Nuoro, sono studenti armati. Perché questo è un fatto etnico? C'abbiamo il contellino sempre. Attraverso questo contello sfasciano i sedili di fulma. Punto. Notizia. Gli studenti della provincia di Nuoro sono gli studenti tefisti che sfasciano eccetera eccetera. È vero. chi lo fa? Io tefista. Non lo nascondiamoci. Noi abbiamo fatto un'azione che è una mutuare, una buona idea che ha fatto la provincia di Cagli. Io non mi nascordo. Non voglio essere a vedere queste assurde primogeniture. Abbiamo investito non tantissimo, sperimentalmente, 300 milioni per far sì che in piazza Veneto, per chi conosce Nuoro, cioè nel posto toglie, gli studenti pendolari aspettano al freddo o al gelo, se non sono al bar, il fulma che li riporta nei loro paesi possa essere realizzato una tenda. Perché sono problemi di tempi, perché se no potremmo realizzare un'ultima struttura tra cinque anni quando quegli studenti sono già diversità o stanno facendo altro. Adesso una tenda all'interno della quale metterci un po' di musica, all'interno della quale metterci uno spaccio di qualcosa da bere, a prezzi politici si diceva ai miei tempi, attraverso il quale avere un attimo di socializzazione. Cos'è questo? È rendere efficace qualità. Potevamo fare tantissime altre cose, c'è necessità di attraversare le curve della strada che riporta, c'è necessità di, attraverso la pubblica amministrazione, fare qualità. Potrei continuare con questi piccoli esempi che sono grandi esempi, perché la qualità è un sistema, il sistema è costituito da tanti attori e da tanti ingredienti. Il ruolo dell'amministrazione è questo, non rendere, specialmente la nostra che dico ordinamento, non rendere efficiente, qualitativamente efficiente la propria organizzazione, ma attraverso l'azione dell'amministrazione, che chiaramente sarà sottesa da standard di qualità, immettere nel sistema elementi di qualità e quindi rendere il sistema vita di qualità e attraente verso coloro che poi si inseriranno.